In quasi tutta l'area vesuviana si conferma il trend di aumento per le guarigioni, ma salgono anche i contagi. Sono 61 i cittadini di Toro e il greco guariti dal Covid-19 solo nella giornata di ieri. Questo affronta i di 28 contagiati, un numero ben più basso rispetto ai picchi dell'ultima settimana. Il bilancio, quindi, arriva ad 888 torresi positivi, di cui 18 ospedalizzati. Dati che però vengono aggravati dalla morte di una concittadina di 89 anni, risultata positiva al tampone solo post-mortem. Intanto, l'amministrazione comunale ha predisposto l'opera di sanificazione straordinaria delle strade di tutta la città, una misura adottata già in primavera per contrastare il diffondersi del virus. Bilancio quasi in pareggio anche per Toro è annunziata. Ieri sono stati registrati 69 casi di contagio a fronte ai 63 cittadini guariti. 458 sono i cittadini attualmente positivi, di cui 12 ospedalizzati. Anche il sindaco di Ercolano, Ciro Buonaiuto, ci ha confermato un aumento delle guarigioni nei suoi concittadini. Stessa cosa per Castellammare. Stabile il numero dei nuovi positivi ed ancora alto il numero dei guariti. Ieri sono stati 51 i nuovi contagi registrati, fra cui però molte persone anziane. Invece, a sconfiggere il coronavirus, sono stati in tutto 27 stabiesi, tra cui alcuni ragazzi molto giovani ed un bambino di un anno. Un segnale di speranza nel dramma che sta vivendo il comune in questa seconda ondata.